buongiorno a tutti oggi è il terzo venerdì della nostra quaresima del 2019 ho in mano una corona di spine e siamo davanti ancora all'immagine del crocifisso hanno messo una corona di spine addosso a cristo per portarlo in giro io invece oggi invito me e invito ciascuno di voi a intrecciare una bellissima corona da mettere sul capo di cristo è una corona fatta di fiori quali ognuno di noi sceglierà credo che i fiori migliori che cristo vuole è l'abbraccio della fede in lui è l'amore forte che gli diamo e la preghiera accorata che gli facciamo oggi in questo venerdì leviamo la corona di spine dal capo di cristo mettiamogli una corona di fiori profumati di fede di preghiera e di amore ciao buona giornata a tutti